Jacqueline Luna Di Giacomo, futura mamma e compagna del cantante Ultimo, ha condiviso uno scatto toccante sui social che la vede abbracciata al padre Giovanni Di Giacomo, il quale cinge affettuosamente il suo pancione. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie! Con la dolce didascalia nonno-nanni, la 24enne mostra il forte legame con il papà, con cui ha sempre avuto un rapporto complice. Tuttavia, spicca l'assenza di Heather Parisi, sua madre, che, nonostante si trovi in Italia, non ha fatto alcun gesto pubblico verso la figlia in uno dei momenti più importanti della sua vita. La distanza tra Jacqueline e Heather è ormai nota da tempo. Dopo l'annuncio della gravidanza, nessun messaggio o segno di vicinanza è arrivato da parte della Parisi, alimentando ulteriori speculazioni. Ma poche ore fa, la showgirl ha deciso di rompere il silenzio, pubblicando un post su Instagram in cui difende la sua scelta di non rendere pubblica la sua vita privata. Voglio essere giudicata per il mio lavoro, non per il mio privato. Con Jacqueline circondata dall'affetto del padre e della famiglia del compagno, rimane incerto se ci sarà una riappacificazione tra madre e figlia. Nel frattempo, il post di Heather Parisi lascia intendere che non intende esporre ulteriori dettagli sul loro rapporto. E tu credi che l'arrivo di un nipotino possa riavvicinare Heather e Luna? Commenta qui sotto e metti like!